Il Brindisi suona la quinta sinfonia e conquista ancora un successo contro la Nocerina nel recupero di campionato. Una vittoria decisa da Silvestro nel secondo tempo, protagonista in pieno recupero il portiere Cavalli che neutralizza un calcio di rigore. Salva il risultato, parte bene il Brindisi dopo solo due minuti, ci prova con un inserimento di Bagel, il suo diagonale termina però sul fondo. Al sedicesimo dalla distanza ci prova Silvestro, la sfera però termina alta sulla traversa, insiste la formazione bianco-azzurra. Al trentatresimo, cross dalla sinistra di Colaci, sforbiciata spettacolare in area di rigore di Bagel, sfera che sfiora la traversa e termina fuori dalla porta avversaria. Al trentasettesimo, l'occasione più importante del primo tempo ancora per il Brindisi, cross lungo sul secondo palo, Lopez trova la deviazione, la traversa, gli nega la gioia del gol. Subito accesa la gara nella ripresa dopo 40 secondi e la Nocerina a farsi vedere in avanti dalla sinistra, sfera appoggiata per Menchini che termina sul palo basso. Poi si salva la difesa bianco-azzurra. Ripartenza del Brindisi con Silvestro che entra in area ma calcia alto sulla traversa. La Nocerina prova a manovrare, il Brindisi non concede spazi, al venticinquesimo sblocca il risultato. Pallone che dopo una mischia arriva sul secondo palo e Silvestro a calciare con la deviazione di Venditti e il palo e la sfera che termina in rete. Per il vantaggio bianco-azzurro. Il Brindisi due minuti dopo potrebbe anche raddoppiare punizione di Galdian, testa di Lopez, sfera che termina sul fondo. La Nocerina reagisce solo con un calcio d'angolo al 34esimo di Palmieri. La deviazione in aria col pallone che termina però fuori dallo specchio della porta brindisina. In pieno recupero poi il calcio di rigore che potrebbe cambiare le sorti dell'incontro. Dal dischetto si presenta Mazzeo. Cavalli attento e con i piedi devia la sfera. Salva il risultato che vale più di un gol al tripice fischio. Festa in campo e sugli spalti per l'ennesimo successo bianco-azzurro.